Sicuramente la locandina verrà cambiata in fretta e furia, come quando i bambini fanno le marachelle e cercano di nascondere la malefatta per evitare la punizione. Il titolo del convegno in programma domani mattina all'Università di Teramo è quantomeno fuori luogo, se vogliamo essere buoni, per non dire che è offensivo e stupido. Chi ha vissuto quei giorni da cronista, da soccorritore, da uomo delle istituzioni, oppure da semplice cittadino abruzzese d'italiano, incollato ai TG per avere notizie, guardando questa locandina e ricordando l'ansia, la gioia per i bimbi estratti vivi e la disperazione delle ore successive alla valanga che si è portata via 29 persone sotto le macerie dell'hotel Rigopiano di Farindola dovrebbe indignarsi. Ha maggior ragione se si pensa che questo titolo, corredato da esemplificativa foto di sfondo, è stato partorito da menti che magari ci hanno anche ragionato su, studiato, elaborato, costruito e poi impresso su carta, magari con l'imprimatur dei partner dell'iniziativa, nell'ordine Carabinieri Forestali, Università di Teramo, Regione Abruzzo, Fondazione Gran Sasso e Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, IZS Caporale e Accademia Italiana di Scienze Forestali. Al tempo di internet e dei social le informazioni corrono veloci, la locandina è diventata virale sulla rete e sicuramente già rimbalzata nel telefonino dei familiari delle vittime, che ogni mese, da quel maledetto 18 gennaio, si ritrovano nei luoghi della tragedia per stare insieme, per ricordare, per darsi forza e per difendere il ricordo dei propri cari, a cui sono disperatamente aggrappati. Un titolo sbagliato nella sua costruzione, ma anche nel suo significato. Quale opportunità ci può mai essere da un evento che ha lasciato dietro di sé morte e distruzione? Ricorderete tutti la vignetta di Charlie Hebdo sulla valanga di Rigopiano, tutti a stracciarsi le vesti, giustamente, e ad inveire contro l'insensibilità dei cugini d'Oltralpe, peraltro provati dagli attacchi terroristici. Noi, però, siamo riusciti a fare anche di peggio, perché abbiamo l'aggravante della ferita ancora aperta, delle inchieste ancora in corso, delle responsabilità ancora da accertare. A questo punto, come il bambino di qui sopra, sarebbe bene che chi ha pensato questa locandina venga fuori con il dito alzato, chieda scusa e riceva una sana sculacciata da bravi genitori, quali tutti dovremmo essere.